Uomini e donne, extronista fa uscire il suo primo libro vola al primo posto nella classifica di vendite su Amazon Italia. Non molto tempo fa una nota extronista di Uomini e Donne aveva annunciato ai suoi numerosissimi fan che a breve uscirà il suo primo libro dal titolo Fatti i figli tuoi. Il manuale della mamma felicemente imperfetta. Stiamo parlando di Rosa Perrotta e l'annuncio è stato fatto sul profilo Instagram con un post in cui nel video appare anche la sua meravigliosa famiglia. Ovvero Pietro Tartaglione e i piccoli Domenico e Tanemaro Achille. Il libro uscirà il 31 gennaio ma come anticipato Rosa stessa ha riscosso tantissimo successo. Perché infatti grazie al preorder, è già primo in Italia e quarto su Amazon. Sì. 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 Grazie a tutti